Giosuè Mattio della Vigor Cycling Team, giunto primo a questo trofeo Enzo Migliore, una vittoria di squadra la vostra perché avete piazzato ben tre corridori nei primi cinque, quindi un grandissimo risultato. Sì, abbiamo corso veramente in modo perfetto e la vittoria è toccata a me però veramente tutta la vittoria di tutta la squadra perché senza i miei compagni non sarei assolutamente riuscito a vincere, ci siamo trovati al fondo della discesa quando mancavano 15 chilometri che eravamo in sei della nostra squadra su un gruppo di una ventina, quindi abbiamo fatto gioco di squadra. Agli ultimi tre chilometri siamo usciti in tre, di cui due eravamo della nostra squadra della Vigor e agli ultimi 500 metri sono partito, prima abbiamo attaccato Olivero, l'ha ripreso Pini, poi sono partito io ed è stato un attacco decisivo, sono riuscito ad arrivare. L'avevate preparata così oppure è venuta così in corso d'opera questa gara? Ma sapevamo che non potevamo portarci gente veloce in volata, anche se la salita faceva il suo, quindi gente velocisti pure non potevano arrivare, però il rischio di portarsi qualcuno più veloce c'è sempre, quindi è meglio arrivare da soli. La nostra squadra ha corso in modo che potesse succedere questo e in effetti ci ha dato ragione il percorso e tutto. Come hai trovato le salite, insomma come ti sei trovato nel tratti più duri di questa gara? La gara la conoscevo già perché l'altro anno l'ho vinta, stesso percorso, quindi la conoscevo bene, mi piaceva come gara, la salita era abbastanza adatta a me perché andava su abbastanza regolare e poi mancavano ancora una quindicina di chilometri di pianura prima di arrivare al fondo della discesa e quindi il percorso mi si addiceva e mi piaceva e fortunatamente è filato tutto liscio e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Adesso i prossimi impegni? Diciamo che ogni corsa è un grande appuntamento, mi piacerebbe molto il campionato regionale, poi c'è il sogno del campionato italiano che penso sia di tutti i corridori ma stiamo a vedere, la stagione è ancora lunga e le gare sono moltissime.